Buonasera a tutti e benvenuti nella foresta di Sherwood, saluto anche chi ci sta ascoltando in diretta su Radio Sherwood, quindi Sherwood.it e saluto soprattutto gli ospiti di questa sera, di questo dibattito dal titolo Cambiamo Musia, il primo Alex Favaretto, direttore artistico di Sherwood Festival, poi abbiamo Andrea Cegna di Radio Onda Durto, grazie dell'invito, e Andrea Veladonna di Festa dell'Alta Felicità. Ciao a tutti e buona donna. Buona donna, scusami. Avremo poi anche in collegamento Totto Barbato del case di Livorno, ma soprattutto avremo in presenza anche Jacopo Pesiri, il maestro, che verrà a parlarci delle maestranze dello spettacolo, un po' di quello che è stato. Saluto anche la mia co-conduttrice Francesca Gabriellini di Gemini Network, che è collegata via Zoom. Ciao Francesca. Grazie mille per avermi invitata con te a condurre questo momento. Ok, doveva essere in presenza Francesca, ma purtroppo non è potuto venire, quindi la ringraziamo comunque per essere qui con noi su Zoom. Allora oggi questo dibattito, incontro, talk radiofonico, chiamiamolo un po' come vogliamo, è incentrato su quello che è stato un po' il mondo dello spettacolo nell'ultimo anno e mezzo. Abbiamo deciso di chiamarlo Cambiamo Musica proprio dall'appello che è stato scritto dai tre festival indipendenti più grossi di tutta Italia, quindi Sherwood Festival, Radio Onda d'Urto e Festa dell'Alta Felicità e abbiamo voluto partire proprio da questa dimensione perché è quella in cui ci troviamo anche un pochettino più calati, facendo parte anche noi di uno di questi grandi festival e poi dopo andremo ad affrontare anche un po' quelle che sono state le criticità di questo mondo, quello dello spettacolo che non sono dovute solamente al Covid come scopriremo, ma sono ben più radicato. Allora io lascio subito la parola ad Alex per farci un po' un'introduzione su quello che è stato questo appello Cambiamo Musica, quali sono state le richieste, le rivendicazioni fatte attraverso queste due lettere in realtà perché sono state due a un anno di distanza l'uno dall'altro, giusto? Sì, un anno fa, maggio 2020, dopo aver dovuto prendere la decisione di annullare la scorsa edizione di Sherwood Festival, ci siamo un po' iniziati a guardare attorno di insomma cosa stava succedendo e ovviamente abbiamo trovato come primi interlocutori naturali dei festival che condividono il nostro modo di fare intrattenimento, di fare concerti, di fare socialità e ovviamente abbiamo parlato, iniziato a dialogare con Festa di Onda d'Urto e il Festival di Alta Felicità per capire anche un po' come muoversi perché eravamo in una situazione che non si era mai verificata prima e quindi era un po' difficile capire come procedere. Purtroppo festival come i nostri che si basano sull'autofinanziamento, sull'essere quello che sono proprio perché hanno una storia, hanno un vissuto e sono dei veri punti di socialità nei propri rispettivi territori. Festival come i nostri erano già in pericolo prima che arrivasse la pandemia perché ovviamente il mercato della musica stava già cambiando prima, c'era un grande strapotere delle multinazionali che imponevano e impongono ancora di più adesso prezzi assurdi, obblighi di prevendita, insomma tutto un meccanismo che Festival come i nostri faceva già fatica a sostenere prima di questa pandemia. Con la prima lettera abbiamo avuto proprio l'intenzione di iniziare a dialogare, di aprire un dialogo sul fatto che era soprattutto dopo la pandemia, con la pandemia è arrivato il momento di provare a cambiarlo questo meccanismo. Ovviamente non è una cosa facile, è un percorso anche lungo che però insomma i nostri festival hanno secondo me anche il dovere di continuare a porre l'attenzione su queste dinamiche e con questa prima lettera uscita a maggio 2020 proprio chiedevamo che soprattutto i protagonisti principali del mondo dello spettacolo, ovvero gli artisti, i booking, cercassero di cambiare questo modo di lavorare. Ovviamente è una cosa difficile, ovviamente è una cosa che a distanza di un anno vediamo che poco è cambiato, avevamo posto un po' la speranza su questa situazione emergenziale che si era venuta a creare da un anno a questa parte ma vediamo che questo meccanismo è un po' difficile da scardinare. Nella prima lettera ovviamente ponavamo anche molta attenzione ai lavoratori dello spettacolo che dall'oggi del domani avevano visto terminare le loro attività lavorative e purtroppo dopo la prima lettera abbiamo avuto veramente poche risposte. È passato un anno in cui il mondo dello spettacolo, il mondo dei live, il mondo dei concerti non ha avuto nessuna risposta da parte delle istituzioni, si continuava a dire quale sarebbe stato lo scenario per i ristoranti, per le palestre, per le attività sportive ma la parola spettacoli, concerti, cultura non veniva mai nominata in nessun decreto, in nessuna trasmissione televisiva. Era un ambiente che era totalmente scomparso dall'oggi al domani. A distanza di un anno, ad aprile 2021, abbiamo riposto l'accento su questa situazione che stavamo vivendo perché ormai era alle porte la stagione estiva, era alle porte la stagione dei festival e chi di dovere non dava ancora nessuna risposta né agli organizzatori di eventi né ai lavoratori dello spettacolo. Nella seconda lettera ponevamo ovviamente un'attenzione particolare alla situazione legata alla salute che si stava creando, si stava delineando e ovviamente è una cosa che pian piano si è mossa però ovviamente la situazione degli spettacoli attualmente è ancora un po' precaria. Noi siamo qui felici oggi di essere a parlare di questo argomento all'interno dello Sherwood Festival perché abbiamo avuto il coraggio, l'ostinazione di fare questo festival perché come abbiamo detto ieri far ripartire questi festival che oltre alla musica, oltre ai concerti sono soprattutto come detto prima un punto di socialità, un punto che oltre alla musica offre cultura e sicuramente sono una parte fondamentale del tessuto sociale delle città in cui si svolgono. Quindi speriamo che piano piano partendo da qui ma anche poi passando agli altri festival che si stanno organizzando nei prossimi mesi sia a Brescia che in Val Susa si possa finalmente ripartire veramente con la musica, con la cultura e soprattutto fare insomma ripartire un settore che è sicuramente fondamentale per tutti. Allora io ringrazio, applauso, magari dalla radio non sentite però da qua si sente bene e allora io ringrazio tantissimo Alex per stato molto esaustivo nella spiegazione e visto che quest'anno tramite Radio Sherwood e anche Giammi Network abbiamo seguito tanto questo discorso un po' del mondo dello spettacolo, della musica, del festival indipendente. Io lascerei, andrei a scomodare Francesca per... Francesca ci sei? Sì ci sono. Ecco qui perché lei mi ha tenuto compagnia per tutte le trasmissioni che abbiamo fatto proprio su questo argomento. Allora lascerei un attimo a te la parola. Grazie Pino, sì è stato un bel percorso quello che abbiamo seguito e è utile la tua premessa come è stato molto utile l'intervento di Alex per interloquire adesso con Andrea Cegna per Radio Onda d'Urto, per la festa di Radio Onda d'Urto che si farà anche quest'anno e peraltro preparandomi per questo momento insieme mi sono andata a leggere il manifesto e mi hanno colpito molto le parole d'ordine che avete scelto di utilizzare, in particolare una. Infatti andando a visitare il vostro sito si legge ci sarà la festa di Radio Onda d'Urto, un mese di musica, cultura, socialità e cura collettiva. Ho trovato molto forte l'utilizzo di questa parola, della parola cura che ha attraversato il racconto di questo anno e mezzo di pandemia globale in cui appunto il mondo dello spettacolo dal vivo è stato segnatamente sotto attacco. Io stessa sono una lavoratrice dello spettacolo ed è stato per me importantissimo e anche un elemento quasi di necessità condividere insieme a Radio Sherwood, a Gemini Network tutte le lotte che si sono disseminate in tutta Italia. Andrea ti chiederei con quale significato avete riempito la parola cura nell'organizzazione, nella costruzione di questa edizione particolare del festival che appunto in quanto festival indipendente viaggia sicuramente nella più ampia filiera dello spettacolo dal vivo che abbiamo ricordato ma insomma rappresenta anche i festival che oggi sono qua a questo talk rappresentano qualcosa di peculiare, di particolare per il loro darsi, per il loro manifestarsi e organizzarsi. Ti lascerei la parola su questo. Grazie, tutto a tutti e tutti per l'invito. La domanda non è semplicissima, mi viene da rispondere così. Noi più o meno un anno fa di questo periodo dovevamo decidere se fare o non fare qualcosa per finanziare la radio. Abbiamo deciso di non farlo. Abbiamo deciso di non farlo per due motivi. Uno perché Brescia era stato, poi lo è stato ancora dopo, uno dei centri diciamo della propulsione del virus e quindi pensare di avere un momento festoso per quanto necessario per finanziare la radio ci sembrava una forzatura che poteva rompere con il tessuto e anche con gli equilibri della città. Dall'altra parte diciamo che per quanto anche quest'anno parlare di ripartenza sia profondamente sbagliato perché poi lo vado a toccare quando entro nel discorso del festival e della festa che faremo quest'anno è sbagliato, l'anno scorso lo era ancora meno. I numeri che sarebbero stati concessi per fare la festa sarebbero stati ridicoli soprattutto per una festa di massa come la nostra e quindi l'anno scorso abbiamo deciso che la festa o era per tutti o era per nessuno. Pensare di fare un momento per due, tre, quattrocento persone quando di solito alla festa ce ne sono migliaia ci sembrava un elemento escludente. Quindi intanto curarsi della città, curarsi delle persone voleva dire scegliere se fare qualcosa o non farle quindi mettere davanti il profitto al rischio nella corsa che c'era stata l'anno scorso per il turismo di essere uno degli elementi che metteva appunto in circolo possibili relazioni che potevano materializzare un incremento dei casi e capire se fare una cosa solo per le economie e quindi escludente e quindi la scelta è stata non fare la festa. Quest'anno non possiamo dire che non ci siamo interrogati anche quest'anno per molto tempo però ci è sembrato altresì interessante e importante dare un segnale positivo di ripartenza, cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo e quindi cercare di garantire una formula che purtroppo non è quella solita della festa che però garantisse contemporaneamente la più ampia l'accessibilità agli spazi collettivi e dall'altra la possibilità di fare musiche e spettacoli anche per un semplice valore abbiamo spinto per tutto un anno le lotte dei lavoratori dello spettacolo e delle lavoratrici dello spettacolo se in una città come Brescia fosse mancato per 20 giorni un festival voleva dire x persone del mondo dello spettacolo in meno che avrebbero lavorato anche quest'estate quindi pur sapendo i rischi e le difficoltà soprattutto economiche in questo momento di giocare questa partita la scelta è stata quella di dire diamo un segnale cerchiamo nuovamente una formula che poi provo a raccontare che permetta l'accessibilità più ampia possibile cioè per tutte e tutti e la possibilità invece di fare concerti fare spettacolo e quindi garantire che un pezzo di questo mondo possa ripartire la formula che abbiamo scelto è stata perimetrare essenzialmente creare un'area dentro l'area e ci sarà la festa, la sagra disponibile a tutti quindi senza ingresso come sempre e l'area concerti con biglietti purtroppo molto più alti di quello che siamo abituati a fare perché comunque la contraddizione e le problematiche soprattutto quella della limitazione dei numeri sono un problema reale ma da un'altra parte noi lo diciamo anche con forza sono certamente un problema ma noi non ricordiamo adesso per quanto sicuramente i vaccini stanno funzionando tutti cioè non vogliamo neanche far finta che non sia successo niente quindi neanche accettare la logica che vabbè adesso va bene facciamo una festa per 5.000 persone poi a ottobre ci ritroviamo punte da capo sperando che non sia così a prescindere credo che un gesto di responsabilità e un atto di responsabilità e di cura collettiva è anche quella di saper riconoscere quando una limitazione è una privazione di libertà e di possibilità o quando ha un senso dentro una dinamica più ampia senza stare a capire se potevano fare 1.100 o 1.900 comunque avere questa attenzione ci pare nuovamente necessario e quindi su questo vogliamo essere intransigenti non è solamente una questione di legge e di limite detto questo ovviamente i problemi che abbiamo sollevato con la lettera un anno fa sono tutti lì presenti, visibili, drammaticamente presenti e visibili quindi da un lato la contraddizione che andiamo a giocare è anche doppia nel senso che io lo dico senza mezze misure nuovamente la logica imposta dalle agenzie ma accettata dai management e dalle band perché non bisogna assolvere chi poi decide di stare con una multinazionale perché voglio dire non sei obbligato a firmare per quelle agenzie che siccome ti danno un milione di euro e ti garantiscono per un anno la sopravvivenza e tu non hai voce in capitolo sia l'unico modo per vivere dentro il mondo della musica puoi decidere se vuoi di starci dentro in un mondo diverso sono molto poche e molto pochi quelli che lo stanno facendo e spesso, mi duole dirlo, anche le agenzie cosiddette indipendenti per non perdere i gruppi e per non farli scappare verso le multinazionali riproducono spesso in maniera anche molto più rabbiosa e tesa le stesse dinamiche perché per paura che poi arrivi la multinazionale di turno che gli mette lì a punti garantiti replicano questa formula non hanno la stessa copertura economica che quindi vanno in difficoltà sulla gestione di questo tipo di sistema e molto spesso si vedono perdere gli artisti lo stesso quindi è un cane che si sta mordendo la coda è una situazione limite noi lo diciamo cioè noi essenzialmente quest'anno apriamo e ovviamente abbiamo fatto una scelta comunque di calibrare il più possibile il costo dei biglietti però pur mettendo biglietti diciamo dei 15 euro in su tendenzialmente apriamo con la consapevolezza che molto spesso faremo pari con mille persone allora questa cosa qui è una cosa assolutamente insostenibile ed è dobbiamo trovare il modo tutti insieme tutti insieme per non accettarlo più senza chiamarci fuori dalla possibilità di avere alcuni gruppi e far sì che nei nostri luoghi nei nostri luoghi di fruizione nei nostri luoghi dove cerchiamo di garantire che quel diritto alla musica per cui compagni e compagni negli anni 70-80 sfondavano facevano scontri eccetera eccetera e i nostri luoghi stanno provando a giocare la contraddizione con i biglietti a 5, 6, 7, 8, 9, 10 euro provare a fare quella cosa lì comunque sostenendo sistemi collettivi i lavoratori e le lavoratrici eccetera eccetera un modo per non privarci da quel mondo ma allo stesso tempo non subire e accettare questo tipo di logiche io non credo che sia questo l'anno io lo dico chiaramente quest'anno stiamo tutti vivendo e lavorando in emergenza forse molto più dell'anno scorso e quindi non è per auto assolvere io credo che in questo momento il segnale è anche quello di essere qua oggi a parlarne è molto più importante di fare questo tipo di conflitto nel breve periodo noi dobbiamo cercare di costruire un modello parlare con i gruppi parlare con gli artisti parlare soprattutto con loro perché poi sono loro che hanno cioè io non è che voglio andare la multinazionale sarà sempre mia nemica e allora il soggetto intermedio che ha in mano quel tipo di soggetto ovvero il gruppo e il management che ha la possibilità di scegliere di tornare a scegliere perché comunque io quando sono cresciuto ho iniziato a fare i concerti i gruppi quando decidevano di venire a suonare in un centro sociale alla festa di Sherwood alla festa di Onda d'Urto sceglievano di esserci parlavano con l'agenzia magari sceglievano di avere un prezzo diverso di rinunciare agli alberghi di rinunciare a un pezzettino della produzione complessa che avevano per esserci ma non per la necessità dell'agenzia di chiudere i contratti ma per la voglia di condividere quei luoghi e allora credo che noi dobbiamo ricostruire e trovare un modo per ricostruire un sistema virtuoso per ribadire che spazi come questi realtà come queste politica o non politica perché poi io credo che ci siano anche tanti festival che garantiscono questo tipo di fruibilità che magari non si rivendicano un posizionamento per forza politico ma lo sono penso al balla con i cinghiali penso a Polide penso c'è ce ne sono tanti di festival di realtà che praticano lo stesso questa cosa bisognerebbe avere un po' il coraggio che abbiamo io lo dico che abbiamo avuto l'anno scorso a gettare quel sasso non ritirare la mano e creare anche un sistema parallelo alternativo che sappia imporre delle nuove modalità di relazione che non vuol dire non pagare il giusto i gruppi io credo anzi anzi che per esempio una delle logiche perverse che si imposta scusate la lunghezza chiudi in un minuto è stato che la grande presenza di sponsor all'interno di questi tessuti ha drogato talmente tanto il mercato che da una parte si è permesso per anni di vedere concerti gratuitamente abituato il pubblico a non pagare per vedere anche delle cose molto costose dall'altra parte ha abituato i gruppi che nonostante queste scelte a prendere i cascepieni siccome noi siamo festival indipendenti e non abbiamo sponsor siamo un'altra cosa dobbiamo pretendere che sia riconosciuta a quest'altra cosa purtroppo mi viene a dire anche rischiando di perdere qualcosa per strada però io credo che dobbiamo costruire da settembre in poi un sistema valoriale un sistema di relazione una sorta anche di manifesto comune che ponga dei punti e che decida di ragionare insieme ripeto pagando tutto il giusto perché non è che io insieme a tanti compagni abbiamo fatto le battaglie per i lavoratori dello spettacolo Radio Sherwood Radio Onda D'Urto ha parlato delle lotte per i lavoratori dello spettacolo perché voglio che un fonico prenda di meno al massimo vorrei che un fonico prenda di più che sia garantito di più che il rigger sia garantito che il rigger esista come figura lavorativa che oggi invece è un operaio specializzato che il facchino non prenda 3,50 euro per lavorare in uno stadio ma prenda un lavoro giusto e allo stesso tempo che l'accessibilità ai concerti sia garantita e quindi se chiedi 100 euro per un concerto non esiste che un facchino prenda 3,50 euro perché se qualcuno con un biglietto a 100 euro in uno stadio ci guadagnerà e chi guadagna che deve decidere di accettare e di essere all'interno di un percorso che garantisce tutti quindi partendo dalla garanzia dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo di chi sale sul palco che sia pagato il giusto essere un festival indipendente oggi secondo me passa dal pretendere che ci sia un riconoscimento di quello che siamo e quindi non magari ragionare sui garantiti ma su come è andata la serata sul garantire una giusta paga garantire anche i giusti guadagni ma non essere schiacciati cioè che non possiamo essere l'ultima ruota che subisce il sistema capitalistico delle multinazionali e allora grazie mille ad Andrea Cegna mi trovo perfettamente d'accordo su tutto quello che hai detto e adesso passerei invece ad Andrea a Buonadonna invece che parliamo del vostro festival la festa Alta Felicità allora noi siamo tutti e tre dei festival comunque dove la politica è importante è presente e è anche una nostra connotazione probabilmente anche quello che ci dà una connotazione ben precisa allora proprio a te volevo chiedere visto che voi partite da un'istanza politica proprio ben precisa che è quella del movimento Notav come si esprime questo questa vostra istanza politica all'interno del vostro festival e il vostro festival soprattutto quali aiuti vi dà magari nel portare avanti la vostra causa va bene intanto grazie a tutti e tutte per l'invito naturalmente mi associo a dire che questo già clima di festa perché siamo dentro veramente una festa è già un qualcosa che segna una rottura rispetto al passato anche molto molto vicino parliamo di un anno fa quando bene o male Alex l'ha detto ci trovavamo tutti e tutte costretti a cimentarci su quella cosa che più dispiace a chi organizza gli eventi quello di prendere dopo aver messo in piedi un ambaradan e immagino chi può partecipare allo Sherwood Festival piuttosto che a Onda d'Urto Festo o all'Alta Felicità immaginarsi il lavoro volontario che c'è dietro la fatica di montare eccetera e tutto e dover poi alla fine dire no quest'anno salta quando in realtà a saltare ci interessava soprattutto che saltassero magari delle poltrone di chi ci governa e chi non ci ha dato una benché minima alternativa se non quello di prenderci assumerci la responsabilità di questa cura collettiva di cui parlava Andrea Andrea è stato un vulcano come sempre e devo dire è stato anche un po' il motore in questi anni di Tredunion tra tutti i festival perché lo vedete ovunque in Valsusa Padova Brescia e ovunque e soprattutto ha messo al centro del ragionamento collettivo delle stanze sicuramente importanti delle stanze politiche qui vengo alla domanda che mi faceva Pino semplicemente Alta Felicità non esisterebbe senza il Movimento Notav e possiamo dire che sicuramente il Movimento Notav visto che dura da 30 anni ha fatto meno dell'Alta Felicità per un buon 25 anni però questi ultimi 5 anni hanno avuto anche una connotazione diciamo di valenza ulteriormente amplificata di quella che è la visibilità della lotta la tenuta e il ricambio generazionale perché in Val di Susa al di là di generazioni che sono nate e cresciute e purtroppo anche che ci hanno lasciato durante questa lunghissima lotta però c'è sempre il bisogno di lasciare il testimone e di raccontare una vicenda di vita vissuta anche alle nuove generazioni ecco l'Alta Felicità aveva un po' quello scopo di prendere e mettere in forma diciamo concreta quasi proprio plastica di vita vissuta l'esperienza di comunità che aveva saputo esprimere durante questi 20 anni di lotta durante i presidi che fossero sotto la neve a Venaus nel 2005 o sotto il sole coccente della Val Clarea chi non ha mai vissuto quelle giornate anche al ritmo della buona musica di molti artisti e artiste che ci hanno non solo sostenuto ma ci hanno accompagnato anche durante questa questa lotta chiaramente entra in gioco oltre che diciamo l'importanza del sostegno degli artisti entra in gioco anche quel bene comune che deve essere salvaguardato fino in fondo di una socialità alternativa a quella del mercato questo credo che sia un po' il fulcro del Festival dell'Alta Felicità fin dalla sua prima edizione la prima edizione è stata una scommessa pazzesca perché siamo partiti ad aprile per un festival che doveva iniziare appunto a luglio e per chi organizza certe situazioni vuol dire parlarne almeno dall'anno prima cioè ci vuole un anno di lavoro anzi non si smette mai di lavorare da un'edizione all'altra eccetera è stata una scommessa ma soprattutto una scommessa con noi stessi essere capaci di tradurre in pratica molte di quelle parole d'ordine di quegli slogan che connotano la nostra esperienza di vita di militanza nei centri sociali nei posti occupati piuttosto che nei festival che va messa insieme anche al portato di competenza perché qua se c'è una cosa che anche non viene molto secondo me valorizzata nel momento in cui si etichetta un festival come indipendente è la qualità che ci sta dietro cioè è pazzesco molti che ci hanno conosciuto di diciamo non solo gli artisti ma anche in generale i manager i promoteri i tour manager eccetera che sono venuti a trovarci perché magari accompagnavano un artista che si esibiva nei nostri festival ci hanno un po' restituito questa sorta di luogo comune per cui parlare di festival indipendente significava parlare di qualcosa di campato in aria adesso la banalizzo in realtà invece qua parliamo di qualità di competenze messe però in comune non monetizzabili dal mercato del tirare a campare voglio dire questa competenza questa qualità questa nostra esperienza collettiva viene messa in condivisione e questo bene comune va preservato ed è un po' il nocciolo della questione su cui credo dovremo andare a battere soprattutto quando andremo a parlare con gli artisti in momenti difficili come questi perché come diceva Andrea sono convinto anch'io che non sia il momento più proficuo per cercare di andare a prendere per la collotto e dire iniziamo a ragionare che qua non stiamo parlando che il sistema economico è fatto con partimenti stagni per cui si leggete ogni giorno la rassegna stampa la bolla del calcio degli anni 2020 che prima o poi esploderà ci sono i procuratori che fanno il bello cattivo tempo i calciatori si parla di quello e dall'altra parte però sulla musica e sullo spettacolo sembra che le cose siano diametralmente diverse fanno parte di questo sistema economico che noi avversiamo chiaramente ma in cui siamo inseriti e che giocoforza crea queste situazioni di bolle che prima o poi possono esplodere e allora nel momento in cui ci siamo dentro noi dovremo dobbiamo avere la capacità di non esserne risucchiati e essere travolti per cui la sostenibilità dei nostri festival a prescindere dalla situazione del mercato va garantito e io rivendico che un euro può bastare e vale come mille altre parole d'ordine eccetera ma soprattutto sono esperienze di vita che poi uno si porta a casa perché anche in tempi difficili fare queste scelte significa dare delle indicazioni ecco dico però a maggior ragione in tempi difficili come questi bisogna seminare e allora l'approccio di Andrea di Alex e dei miei compagni e dei compagni con cui mi confronto in Val di Susa è stato quello innanzitutto di avere l'umiltà di dire vabbè come sempre noi camminiamo domandando e iniziamo a guardarci intorno a vedere se c'è qualcuno che può accompagnarci in questo cammino che sembra un po' da Don Quixote però in realtà noi siamo profondamente convinti della bontà del cammino intrapreso e comunque io dico che effettivamente magari quest'anno è il momento in cui bisogna tenere botta come si suol dire bisogna portare a casa innanzitutto il primo bisogno collettivo che abbiamo quello di ritrovarci di fare socialità sana di condividere un momento di musica seduti magari a parlarsi in una osteria in uno stand eccetera scambiare due chiacchiere due impressioni e però poi il passaggio successivo sarà quello magari di iniziare a vedere se c'è qualcuno che in questi tempi grami magari non è così contento anche di come funziona il meccanismo e il comparto spettacolo a 360 gradi noi abbiamo la fortuna che essendo un festival molto connotato politicamente chi prende una scelta di venire all'alta felicità sa che comunque fa una scelta di campo dove non si può mimetizzare troppo sul discorso vabbè sono un membro del settore dello spettacolo un carri e quindi ci vado i festival indipendenti li sostengo eccetera no lì c'è bisogno uno scarto in più bisogna aderire a una situazione come quella dell'alta velocità del dibattito no tav che comporta magari delle scelte anche un po' più drastiche questo portato però porta di conseguenza anche all'aver fatto propria una scelta di libertà che magari la paghi nel momento in cui i mainstream ti guardano un attimino e dicono vabbè però sai com'è non si può tanto andare in giro con la maglietta notave eccetera se vuoi andare di nuovo agli MTV Days e parliamo con Vicio all'epoca quando mise la bandiera agli MTV Days no? Vicio dei Subsonica però dall'altra parte questa scelta di libertà ha fatto sì e fa sì che qualche seme venga lasciato entro in conclusione così non rubo troppo spazio al dibattito di eventuali domande eccetera e tutto e gli altri contributi naturalmente l'edizione di quest'anno sarà un'edizione a misura della realtà che viviamo faremo un weekend invece non lo chiameremo Festival Alta Felicità per un discorso di opportunità di rimando perché sono per chi l'ha vissuto e sono tre o quattro giorni dove ci sono 70.000 persone che invadono un paese di 600 abitanti quindi in tempi difficili di cura collettiva bisogna anche far tesoro dei termini e delle parole questo weekend ad alta felicità però vorremmo provare a lanciare un messaggio anche proprio come dicevo prima dentro e contro siamo dentro questo sistema parlano di Green Pass ci costringono a una situazione giustamente di autotutele indotta dall'altra parte meno giustamente ci perimetrano alcuni settori con dei dpcm tutti cervellotici noi proveremo a fare un esperimento che è quello di dire all'aperto dove solitamente si fa il campeggio ci sono gli stand eccetera uno liberamente può scegliere la distanza che può tenere rispetto al prossimo montare la tenda a due metri di distanza sono prati immensi enormi eccetera mentre nell'arena con certi lo spazio è più ristretto più limitato se non si facesse come abbiamo deciso di adeguarci e quindi predisporre una formula a consumazione con tamponi 10 euro facciamo noi con i nostri medici volontari che ci sostengono in tutte le iniziative di cura sul territorio facciamo dei tamponi salivari e permettiamo tutti però di viversi un'esperienza di socialità che non sia troppo in contraddizione col termine che abbiamo deciso col nome che abbiamo deciso di scegliere per questo festival alta felicità significa anche prossimità possibilità magari di scambiarsi in sicurezza però delle effusioni sotto un palco queste cose che ci mancano tanto e che vorremmo che non ci mancassero più grazie a tutti grazie a tutti